30 novembre, una data significativa per la Toscana, oggi si celebra proprio la festa della Toscana, quindi un significato importante legato alla giustizia, ai diritti, soprattutto quello della vita. Una mini rassegna insieme anche all'amministrazione comunale di Subbiano, proprio per ribadire un forte no contro la violenza sulle donne. Quando abbiamo calendarizzate queste due date per le proiezioni di questi film, effettivamente ci ha colpito che la nostra potesse ricadere in questa data del 30 novembre, che è una data significativa per la Toscana, poter di nuovo affrontare il tema della violenza, in questo caso sulle donne, e stasera proiettiamo la pellicola sotto accusa. E anche questa è una scelta che ci è sembrata importante, perché purtroppo troppe volte ancora oggi, ma anche pochi mesi fa, nei tribunali italiani ci troviamo di fronte a dei contesti veramente particolari, in cui la donna è ancora sotto accusa per come era vestita, perché se aveva bevuto, che tipo di atteggiamento aveva, e questo siamo nel 2023, riteniamo che non sia più assolutamente tollerabile. La donna va difesa, i suoi diritti di vita e di libertà.